Ragazzi, allora, buona serata a tutti. Allora, ho fatto il video dell'analisi tattica, ho fatto la live oggi, ho fatto il post partita ieri, non mi sono neanche tanto incentrato sugli anti-juventini, perché sinceramente frega cazzi, però, 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 ci sono delle cose da dire e poi parleremo un attimo di due cose riguardanti la nostra tifoseria e un nostro giocatore che è appunto Federico Chiesa. Allora, piccola premessa, e non è possibile, ok, che quando sento parlare della Champions League, dell'Europa, sento parlare gli interisti. Allora, prima di tutto, la storia europea dell'Inter, anche se l'Inter ha solo una Champions in più di noi, appunto, ha solo una Champions in più di noi, non la invidio, non la invidio. Io ripeto, al massimo posso invidiare il Milan, ma ripeto, in proporzione, comunque non invidio neanche il Milan, perché ha sì 7 Champions, ma ha 18 scudetti. Io guardo in Europa e prendo, ad esempio, e spunto, dal Bayern Monaco, che è la scuola più vincente in Germania e la scuola più vincente della Germania in Champions League. Guardo il Real Madrid, che è la scuola più vincente in Liga Spagnola ed è la scuola più vincente del campionato spagnolo in Europa. Guardo, vabbè, non guardo in Inghilterra perché sappiamo benissimo alcune cose, guardo Barcellona, che è la seconda squadra più vincente in Spagna ed è, appunto, la seconda squadra più vincente della Spagna in Europa. Cioè, capite? Guardo quelle, perché noi siamo top in Italia, ok, siamo una squadra che ha vinto più campionati di quattro campionati principali, abbiamo 38 scudetti e abbiamo solo due Champions League. Quello, secondo me, è scandaloso. Abbiamo due Champions League, punto. Ma dell'Inter non invidio neanche lo United, giusto per dirvi, perché hanno un Champions League in più e con tutti gli anni che hanno fatto di Ferguson, per me avrebbero potuto vincere di più. Ne hanno vinte due, se non sbaglio, però per me ne avrebbero potute vincere di più. E calcolando che hanno una Premier in più del Liverpool, se non sbaglio, hanno 20 Premier e 3 Champions, e Liverpool ne ha 19 e ha 6 Champions. Sempre in proporzione. Faccio sempre un discorso di proporzione. Però, però, dell'Inter, in giro per l'Europa, non si ricordano del tripletto del 2010. Si ricordano un po' delle figure di merda che avete fatto prima e dopo. Una su tutte, Valencia. Vabbè, quella è proprio abissale, epocale. Sinceramente, che un interista mi venga a insegnare come si vince in Europa, anche no. Ok? Perché l'Inter in Europa non è ai livelli, come non lo siamo neanche noi. Ma io sono consapevole di questo. Voi invece fate passare il messaggio che siete meglio di noi, perché avete vinto una Champions in più di noi, dopo 45 anni che non la vincevate. Perché io mi ricordo quei 45 anni che siete stati là, ossessionati, non riuscivate. Cioè, questo tripletto per voi è stata una liberazione. Io mi ricordo anche le due finali che abbiamo fatto, che per voi è stata più un'ossessione per voi che per noi. Avete sudato 7 camicie tutte e due le settimane, una settimana per Berlino e l'altra per Cardiff, perché avevate paura che vi strapassimo questo famigerato triplete che non è un trofeo. Non è un trofeo, un trofeo, perché la Coppa Italia, la Coppa Italia, voi la snobbate, qua tutti la snobbano, però è importante per questo triplete del cazzo. Perché non è un... Ragazzi, il triplete è una stronzata, è una boiata. So che per... Cioè, adesso vi sto smontando l'unica cosa che vi fa essere orgogliosi nella vostra storia di merda, però è così. Punto. Il triplete è una boiata. Perché un anno che ti va bene tutto, che poi è una boiata soprattutto se hai vinto poco. Perché io capisco gli altri che vincono, hanno vinto... Cioè, gente... Ci sono squadre che hanno fatto due triplete, allora posso capire. Se non sbaglio, anche il Barcellona, il Bayern, che adesso non mi ricordo. Però queste squadre le posso anche capire. Perché comunque hanno avuto una continuità. L'Inter non se la ricorda nessuno perché dopo il 2010 non ha avuto continuità. Ne ha preso le 7 dallo Schalke l'anno dopo, tra andate e ritorno. Cioè, di che cazzo parliamo? La continuità ti fa grande nella storia. Cioè, l'Ajax ha 4 Champions in più. Non è che è più grande di noi e più grande di voi. Perché ha avuto solo quel periodo lì. Il Barcellona, è vero che è uscito da dopo il 2006, prima aveva le stesse Champions nostre, se non sbaglio, ha dei turni in meno. però, cioè, il lavoro europeo era già iniziato prima. Ma adesso io non voglio incentrarmi tanto su questo discorso qua. Non mi interessa. Tanto sapete benissimo come la penso. Io non invidio la storia europea dell'Inter, qui in Italia al massimo posso invidiare quella del Milan, ma sinceramente l'invidia è una brutta bestia. Io sinceramente e semplicemente spero che la mia storia europea migliori. Punto. Che la mia società migliore, che la mia squadra, che i miei allenatori migliorino, che la mia tifoseria migliori il ragionamento del cazzo, invece qua stanno ancora a dire giocare bene, giocare bene. Facciamo questo discorso dopo. Però quello che a me secca, e mi sono messo questa maglia apposta, a me secca questa cosa qui, che sto per dire. Perché non è possibile che quando voi citate le nostre due Champions League, voi parlo di interisti, ma anti-Juentini in generale, tiriate fuori il discorso a Isel, a vostro piacimento, perché ho visto anche un video oggi di un youtuber interista, a vostro piacimento, per strumentalizzare quello che è successo quella sera. Perché questo è strumentalizzare. Punto. È strumentalizzare. Punto. Fine. Perché io non sento mai da questi stronzi di anti-Juentini, non sento mai una parola di condanna ai tifosi di Liverpool, alla UEFA, alle istituzioni berghe, non sento mai una condanna. Sembra che sia colpa della Juventus. Perché? Perché hanno festeggiato in campo? Sapete la minaccia dell'UEFA alla Juventus quella volta? La sapete? Fate finta di non saperla? La Champions è alzata fuori dall'aereo? Hanno chiesto scusa. È stato un errore? Sicuramente. Distinto l'hanno fatto? Sicuramente. Sbagliato? Sicuramente. Ma hanno chiesto scusa. quando parlate di quella serata lì che io non c'ero perché dovevo ancora nascere almeno le cose anzi le cose le dovreste sapere meglio di me dato che avete più anni di me. E allora se dite queste cose qua le dite in malafede solo per strumentalizzare quello che è successo quelle vittime lì per attaccare una società che odiate una squadra che odiate una tifoseria che odiate questo è il problema vostro perché io non sento mai da un interista da un napoletano da un milanista da un romani non sento mai quando parla di quella sera lì del 29 maggio 85 non sento mai dire tifosi del Liverpool di merda UEFA di merda organizzazione delle istituzioni belghe di merda è stato organizzato di merda non so come abbiano potuto permettere una partita lì che si svolgessero una partita lì tutte queste cose qua non sento mai una condanna per chi veramente è colpevole di quella serata perché il resto è solo strumentalizzazione perché se tirate fuori la prima cosa che tirate fuori è Juventus è strumentalizzazione perché quella volta la Juventus tralasciando quello che è successo dopo ok ma di là di cioè parlo di cose che sono successe dopo vabbè comunque al di là di questo la società Liverpool ha anche un'altra colpa di non aver mai accettato prima di tutto che quando ricorda il 29 maggio 85 lo ricorda come un tragico incidente no è stata una carneficina fatta dai tuoi tifosi insieme a qualche altro tifoso di qualche altra squadra inglese che era lì con quelli del Liverpool prima cosa seconda cosa seconda cosa ha rifiutato non so quante volte manifestazioni cerimonie in ricordo delle 39 vittime al di fuori dello stadio Aizel ex Aizel lì a Bruxelles punto quando mi dicono perché ma è una cosa successa no no non è solo una cosa successa 30 anni fa è che la società Liverpool va ancora avanti a chiudere gli occhi a mettersi il prosciutto avanti agli occhi o a metterlo ai tifosi che vedono che seguono sta faccenda qui va ancora avanti a nascondere in sabbiare come l'UEFA che il 29 maggio dell'anno scorso di quest'anno c'è stata la finale ci sono preoccupati del Black Lives Matter ma un minuto di raccoglimento per quella serata lì non c'è stato queste cose sono vergognose ma queste cose non le dite mai 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 questa è la cosa che mi schifa del tifoso medio perché purtroppo non aziona il cervello ma va bene detto questo parliamo un attimo primo discorso per quanto riguarda la mia tifoseria ragazzi allora qui non è un discorso di giocare bene o giocare male l'ho fatto vedere nell'analisi tattica qui è un discorso che a me piace non è che piace io mi sento sicuro o mi sentirei sicuro di più vedendo una squadra che magari rischia di più ma crea 6-7 palle gol la partita capite ma facendo un certo tipo di calcio corto io vi ho spiegato io ve lo spiego con i meccanismi che vorrei ve lo spiego tecnicamente tatticamente non vi dico voglio vedere una bella partita perché sotto quell'aspetto sono d'accordo andate al cinema andate al teatro ma infatti infatti lo stadio non è più stadio è l'allianz penguin il pinguinaggio no questo è lo stadio nostro adesso stadio è un teatro quindi fatto di che cazzo vi lamentate delle contestazioni delle contestazioni dei fischi quando magari perché ieri tutti contenti perché abbiamo vinto ricordiamoci ricordiamoci i fischi quando era contro l'Empoli primo tempo e dopo la partita che uno dice eh hanno fatto bene io dico anche di no nel senso che ci sta magari se a fine anno c'è una serie di risultati negativi alla seconda terza giornata anche no ci incita la squadra anche dopo la partita persa se no alla prossima partita a casalinga questi qua si cagano adosso se sanno che al primo passaggio ci sono i fischi questo l'ha voluto Agnelli ma va bene questo lasciamo lo stale però il teatro c'è quindi non parlate di gioco perché quando parlate di gioco bello gioco brutto siete voi che ne parlate in questa maniera qui per sminuire chi ha un pensiero diverso dal vostro far passare che chi vuole vince e convince in una determinata maniera che chi critica il gioco che c'è stato ieri lo fa non perché per sminuire quant'altro perché sa che se si commettono gli stessi errori ci si abbassa così tanto si subisce così tanto l'avversario contro altre squadre si prendono le sberle e io sinceramente mi sono rotto le balle di esaltarmi per una partita quando in Italia dite non bisogna guardare la singola partita devono essere tre punti che ci portano poi a perché in Italia vince non è importante ma è l'unica cosa che conta in Italia poi Nedved davanti ai microfoni a Dazon dice tutt'altro ma va bene Dazon scusate Amazon Prime ma va bene e gli stessi tifosi gli vanno dietro perché in Champions League bisogna godersi la partita singola e cosa facciamo? il Napoli facciamo i Napolitani d'Europa cioè ci esaltiamo se battiamo il Chelsea siamo già campioni d'Europa cioè fosse il wrestling noi avremo la cintura oggi cioè seguendo il ragionamento di questi eh no cari bisogna essere contenti non godere io godo quando vedo il trofeo quando vedo se vedrò quando vedrò la Champions League alzata dalla Juventus lì godrò per il resto quando si vince sono contento non lo nascondo sono contento non sono triste non è che sto qua a dire critico la squadra perché volevo che perdesse per dire ecco avevo ragione non sono come altri sono contento quando si vince ma godo solo quando c'è il risultato finale in più anni cioè io non dico Allegri mi deve vincere il Champions quest'anno l'ho già detto io gli do due anni ma se alla fine della prossima estate non gli hanno comprato i giocatori decenni importanti e lui non si dimette che già è stato un errore quest'anno secondo me è responsabile principale delle mancate vittorie in Champions League cioè ce le ha pure lui perché la Champions League è programmabile ragazzi e non ti dire no non puoi programmare l'anno e qua sono d'accordo puoi programmare il fatto di essere sempre lì e che prima o poi è molto più probabile arrivare sempre in semifinale in semifinale ogni tanto ai quarti ma di solito tra le prime quattro parecchi anni consecutivi e vince la Champions così è più probabile che fare due finali in tre anni e poi quando non arrivi in finale esce i quarti al massimo così è meno probabile vince la Champions perché quando arrivi in finale molto probabilmente ci arrivi perché hai avuto un cammino agevolato tra virgolette cioè facilitato dai sorteggi o quant'altro arrivi in finale becchi la squadra più forte le prendi invece se arrivi sempre tra i primi quattro significa che sei veramente tra i primi quattro più forti d'Europa sapete? quello è il discorso e questo è un altro discorso mettiamo via ok bene oggi li castigliamo un po' tutti detto questo parliamo dell'aspetto tecnico ieri Allegri ha detto che Chiesa lo vede come attaccante qua ci parliamo un po' un po' velocemente Chiesa lo vede come attaccante attenzione e secondo me secondo me ieri ho scritto anche in un altro canale YouTube secondo me Chiesa potrebbe essere o Allegri è meglio Allegri lo potrebbe considerare come il suo nuovo Carlitos Tevez attenzione non è che sto dicendo che Chiesa ha le caratteristiche è un Tevez allora come cattiveria è simile come sprint può essere simile come velocità addirittura può essere più veloce è più giovane di Tevez quando è arrivato Tevez da noi giusto può strappare speriamo non i muscoli nel senso che può strappare e può fare l'accordo insieme a Dybala magari sotto quell'aspetto quindi io vedo più Chiesa simile a Tevez che Dybala simile a Tevez anche per la cattiveria soprattutto per la cattiveria l'unica cosa che anzi due cose che deve migliorare Chiesa è il fatto di alzare quella cazzo di testa e non avere i parrocchi e l'altra di gestirsi perché non può andare a folate perché così non finirà mai una cazzo di partita e non sempre può essere sostituito lui fa un culo oggi siamo anche dislessici capite quindi Chiesa deve imparare ad autogestirsi se no rischia di arrivare sempre al novantesimo anzi di non arrivare al novantesimo di essere sostituito prima questo Federico Chiesa lo deve imparare per essere veramente un top player perché per me in questo momento non lo è ancora perché ieri fino al gol non aveva fatto chissà che partita ok e il gol 70% secondo me merito di Bernardeschi lì qua facciamo passare ieri Chiesa come il fenomeno della serata quando secondo me due hanno fatto meglio di lui Bonucci anzi tre Bonucci De Litt e Bernardeschi per me questi tre hanno fatto meglio di Chiesa Chiesa ha fatto il gol bravo tiro deviato bravo freddo cattivo cinico bravissimo però per me Bernardeschi in fase di interdizione di possesso non possesso Bonucci De Litt si sono fatti il culo tanto perché non riuscivamo a tenere un cazzo di pallone su e non riuscivamo a gestire un pallone a livello tecnico hanno fatto una grande partita secondo me di più rispetto a Chiesa tutto lì cosa ne pensate di questo mio paragone Chiesa Tevez e poi altra cosa potrebbe essere che qualora Di Balla rinnovasse il contratto venisse veramente messo al centro il progetto di Allegri potrebbe è molto presto dire questa cosa qui per dire questa cosa qui perché poi sapete gli attori guardano sono molto anche istintivi gli viene una genialata quindi possono stravolgere tutto però potrebbe essere che alla lunga non so se già quest'anno ma alla lunga Allegri veda il sistema di gioco che poi di fatto lo ha portato a Berlino quindi un 4 3 1 2 con Di Balla falso trequartista nel senso che diciamo tre centrocampisti più uno che sarebbe lui perché Di Balla per me non ha i tempi di gioco da trequartista non ha l'ultimo passaggio ha sapete benissimo cosa ha pensato di Di Balla tecnicamente può fare bene può aiutare il centrocampo con il centrocampo magari più forte il prossimo anno per fare il raccordo e quant'altro e poi Chiesa insieme a un altro attaccante che può essere Morata che può essere qualcun altro io Morata lo riscaterei solo qualora se abbassassero veramente le pretese 10 milioni di riscatto per comprarlo 30 milioni in totale e va bene 35 milioni è troppo però se ti dovessero abbassare a 10 milioni io Morata lo riscaterei e il prossimo anno mi concentrerei soprattutto sul centrocampo piuttosto che sull'attacco perché lì in attacco per me non siamo messi malissimo potremmo essere messi meglio sicuramente ma non siamo messi malissimo al centrocampo siamo disastrosi e poi c'è ragazzi il problema di quest'anno di questa rosa qui è la rosa stessa cioè i titolari non sono fenomenali le riserve danno ancora meno garanzie abbiamo visto quando entrano i panchinari che il livello non solo tecnico ma il livello proprio di cattiveria di casimma come dicono a Napoli cala drasticamente il livello di intelligenza tattica cala drasticamente cioè tu metti tre giocatori giovani come Keane McKennie Krusevski faccio tre nomi per tenere sulla palla per ripartire per dare una mano ai tuoi compagni stanchi e non danno un cazzo di supporto a questi qua questa è una cosa grave gli altri sono Desciglio Rugani Pellegrini poi Ai Arthur fuori Ramsey che quasi praticamente medico al J Medical Krusevski appunto che non dà garanzie per il cazzo e spero lo cedano a fine anno ma direi questo i titolari sono Rabiot Bentancur a parte Locatelli cioè capite benissimo che non siamo messi benissimo sotto l'aspetto tecnico sono d'accordo che non possiamo impostare non possiamo dominare il gioco assolutamente però un minimo di palle pulite un Bentancur e un Rabiot non credo che non possano farlo mai capite quello intendevo insieme a Locatelli perché ieri Locatelli ha fatto un lavoro sporco ma il giocatore tecnico per me deve fare quello che serve cioè pulire i palloni Locatelli serve a quello non serve a schermare Lukaku anche se ha fatto bene quel ruolo lì perché gli ha chiesto Allegri di fare quel lavoro lì però Locatelli deve fare anche altro per questo gli ho dato solo 6 tutto lì poi i movimenti senza palla non ci sono aveva l'attacco fuori che ripeto l'ho detto una settimana fa per me la Juventus avrebbe vinto contro il Chelsea giusto per dirvi dopo gli infortuni di Balla Morato ho detto pareggeremo non ho mai dato per possibile la sconfitta da Juventus è giusto per dirvi avevamo l'attacco fuori però prima della partita ho detto per me pesa più pesano più potrebbero pesare di più la scienza di Di Balla e Morata piuttosto che di Canté e di Mount per il Chelsea perché in questo momento e qua sono d'accordo i tre punti servono più per il morale che per la classifica del Giro in Champions perché probabilmente dà più consapevolezza anche a livello difensivo e magari poi si può andare a lavorare sull'aspetto offensivo spero perché Allegri vuole vuole fare quel lavoro e sotto questo aspetto Allegri non lo sto attaccando lo sto criticando per altri aspetti appunto detto questo fatemi sapere la vostra su tutto la baradank che ho detto ci vediamo al prossimo video sempre comunque fino a fine forza Juventus e niente io quando sento certe cose ragazzi mi girano i coglioni che è una meraviglia poco obiettivi anche quando si parla di certe tragedie vabbè buona salita a tutti ragazzi ciao